Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Recentemente, durante l'ultimo episodio di Everissimo, Silvia Tofanina ha colto l'occasione per dedicare alcuni istanti a degli auguri molto speciali. È stato un momento toccante quando ha condiviso i suoi auguri di buon compleanno a Pier Silvio, a nome suo e dei loro cari cuccioli, Lorenzo e Sofia. Poco dopo, abbiamo potuto vedere su tutti i profili social di Everissimo e il video con la dolce dedica di Silvia. E naturalmente, Pier Silvio non ha tardato a rispondere. La sua scelta di ringraziare attraverso un canale non usuale per lui, ha suscitato curiosità e dibattiti. Alcuni hanno ipotizzato che abbia chiesto alla moglie di ringraziare a suo nome, mentre altri hanno speculato su un possibile errore nel rivelare la gestione dei social di Everissimo. Tutto ciò ci fa riflettere sul potere e la frenesia dei social media, che sembra coinvolgere persino le figure più influenti del paese.